Ciao, sono Anna Maria Rago, responsabile dell'Ufficio Orientamento e Placement, un settore universitario molto complesso in quanto accompagna i ragazzi da quando si iscrivono appunto sopportandoli nella scelta durante tutto il loro percorso universitario fino all'entrata nel mondo del lavoro. Ciao, sono Riccardo Mancino, sono membro dello staff orientamento, in particolare mi occupo dell'orientamento unitinere e svolgo la funzione di mentore che consiste nel supportare gli studenti iscritti ai primi anni per superare le loro difficoltà al fine di minimizzare il tasso di abbandono. Mi piace pensare che il rapporto che si instaura con gli studenti non sia meramente lavorativo ma di vera e propria amicizia. Ciò mi permette di condividere con loro numerose emozioni e le più belle che sono le gioie di quando passano gli esami. Beh sì, la componente umana, vivere la quotidianità dei ragazzi significa empatizzare le loro emozioni, esorcizzare le loro ansie e anche dargli quel pizzico di autostima che rende meraviglioso questo percorso. Ancora prima di consigliare ad altri l'allume l'ho consigliata a me stesso in quanto attualmente sono studente magistrale in questa università. Consiglierei l'allume perché permette di conoscere appieno le proprie potenzialità, implementare quelle che possono essere le competenze maggiormente richieste dal mondo del lavoro. Consiglierei l'allume per le molteplici opportunità che offre. Prima fra tutti sicuramente quella legata al placement. Gli studenti hanno molteplici opportunità di lavoro che quotidianamente ci vengono chieste da parte delle aziende. Segno che sicuramente il brand L'allume si sta affermando in termini di qualità e preparazione all'avanguardia. L'allume, vivi il tuo sogno, costruisci il tuo futuro.